Allora, tutto pronto? 12esima edizione di Ardesio di Vino nel fine settimana. Esatto, torna l'Ardesio di Vino, torna la 12esima edizione di Ardesio di Vino e probabilmente la più ricca di eventi collaterali. Come si segnalava anche prima, Ardesio di Vino ormai sta diventando non più la festa del vino che organizzano ad Ardesio, ma davvero un insieme di eventi, manifestazioni, mostre, appuntamenti culturali, appuntamenti del gusto e tutta una serie di prodotti collaterali all'evento che sta rendendo la manifestazione davvero una rassegna, una kermess enogastronomica a tutti gli effetti. Questo è un po' il nostro punto di forza e quello su cui puntiamo con questa manifestazione. Ci tengo a sottolineare due aspetti brevemente. Uno è quello del grande discorso dei volontari della Proloquo di Ardesio e di tutti i volontari che ci danno una mano. Sono tre o quattro le persone da ringraziare nel migliore dei modi che si stanno dando da fare da gennaio in una maniera incredibile e sono Luca Iberti per la coreografia, l'Antonella per tutto il reparto media e il discorso di tenere le fila di tutta la manifestazione, Stefania Verzeroli e Francesca Gaiti all'interno dell'ufficio della Proloquo per tutto quello che è il lavoro sporco dietro la manifestazione. E però tutta la miriade di volontari che questi due giorni e per tutta questa settimana e la settimana dopo per pulire e mettere a posto si daranno da fare per Ardesio Divino. E una cosa che è emersa oggi così particolarmente è che siamo la Proloquo degli eventi all'aperto. Quindi rischiamo ogni anno per qualsiasi evento, rischiamo con la Fiera delle Capre, con la Scassata del Generù, con l'Ardesio Divino, con la Gara dei Go-Kart, con il Festival degli Artisti di Strada, rischiamo le manifestazioni all'aperto, quindi fuori nel centro storico valorizzando il borgo, le sue stradine, i suoi angoli più importanti. Questo lo facciamo perché crediamo nella bellezza del nostro paese e quindi anche per questa dodicesima edizione di Ardesio Divino spazio davvero a vivere il borgo di Ardesio. Cosa troveranno quest'anno i visitatori ad Ardesio Divino? Come sempre troveranno i nostri numerosi e selezionati viticoltori e artigiani del gusto. Quest'anno saranno 65 gli stand presenti, di cui 38 viticoltori e 27 invece artigiani del gusto provenienti un po' da tutta Italia. Sono 11 le regioni rappresentate per questa dodicesima edizione di Ardesio Divino e come sempre la proposta è degustazioni, incontri con i produttori, per cui si potrà dialogare con chi produce il vino e anche i prodotti tipici che poi portiamo sulle nostre tavole e quindi avere l'opportunità di portare a casa dei prodotti di qualità selezionati e di cui possiamo anche conoscere la storia proprio da chi appunto li produce. Quest'anno poi gli appuntamenti sono tantissimi. Come sempre si parte con la cena di vino del venerdì sera che ha avuto un tutto esaurito e poi però proponiamo comunque le cene all'aperto, sabato sera, domenica sera, in piazza, quindi nel centro storico, prodotti tipici, cucinati con prodotti selezionati, anche a chilometro zero, un menu molto studiato, attento, ma che porta proprio la tradizione sulle nostre tavole, in questo caso sulle tavole di Ardesio Divino nel centro storico. Tra gli eventi proposti ricordiamo comunque attività anche per i bambini, la domenica pomeriggio con laboratori creativi, sia il sabato che la domenica avremo concerti sia su palco con le proposte il sabato pomeriggio e il sabato sera il grande concerto in piazza Montegrappa con una coreografia per supire i nostri visitatori e poi la domenica pomeriggio e la domenica mattina. Ci saranno anche musicisti itineranti che vi invitiamo a scoprire, a cercare nel centro storico. Tra le novità più importanti di questa edizione si aprono i cortili, i cortili del centro storico che ospiteranno i viticoltori e i numerosi visitatori che si presenteranno alla manifestazione. Vi invitiamo quindi a visitare Ardesio per Ardesio Divino, 12esima edizione, il 6 e 7 agosto. Per informazioni su tutto il programma visitate ardesioelivino.it il nostro sito.